Sono Roberto Giarola, sono il direttore dell'ufficio volontariato del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e con piacere porto al Congresso Nazionale di ANPAS il saluto del Capo Dipartimento, di tutta la nostra struttura e del Servizio Nazionale. ANPAS ha scelto per questo congresso un titolo molto significativo, dare valore, che credo riesca a riassumere molto bene quella che è l'esperienza dell'Associazione. Nel settore della Protezione Civile ANPAS ha lavorato intensamente fin dagli anni in cui il Servizio Nazionale ha mosso i primi passi. Mi fa piacere oggi ricordare alcune persone che non sono più tra noi, a partire da Marco Mucciarelli, da Sandro Moni e soprattutto da Egidio Pelagatti, che sono le persone che hanno fatto un po' la storia della Protezione Civile di ANPAS e questa storia è una storia molto significativa, la storia che ha portato la situazione fin dove è arrivata e che, confidiamo, la porterà avanti ancora di più. Il pensiero che mi viene in questo momento, ricordandoli, è dire che ciò che siamo noi è ciò che eravamo, l'importanza delle radici è fondamentale e in questo ANPAS ha sempre saputo garantire con una struttura molto appropriata e molto forte un impegno unico e quindi noi confidiamo che questa esperienza di solidità, di consolidamento di quella che è l'impegno in Protezione Civile, anche nel nuovo polo nazionale di Forza di Novo, ci darà ancora grandi soddisfazioni e grandi frutti di cui il Servizio Nazionale ha bisogno.